La Carovana della Giustizia guidata dalla radicale Rita Bernardini, che prosegue da oltre 20 giorni il suo sciopero della fame, ha concluso il suo tour della Calabria a Cosenza al Museo del Presente ed è riuscita in un piccolo miracolo, mettere intorno allo stesso tavolo gli avvocati penalisti rappresentati dal Presidente della Camera Penale di Cosenza e la politica, dalla maggioranza all'opposizione, per discutere della riforma che si insegue da lunghissimi anni, la separazione delle carriere tra giudice e PM. I radicali e la Bernardini sono pronti a depositare la proposta di legge iniziativa popolare per raggiungere l'obiettivo, incassando il sostegno dell'europarlamentare grillina Laura Ferrara, che ha partecipato al convegno da Bruxelles, del socialista Franza Caruso, di Iole Santelli di Forza Italia e di Enza Bruno Bossio del PD. Da quando è stato modificato il processo è diventato un processo accusatorio, in cui accuse e difesa sostanzialmente dovrebbero avere le stesse opportunità rispetto alla tutela anche dell'indagato, chiaramente la conseguenzialità dovrebbe essere una separazione. Ora è chiaro che è complicato anche definire il come, questa proposta di legge di iniziativa popolare propone una separazione anche degli ordini, su questo io avrei qualche perplessità, però avviare la discussione è comunque importante per cui io sostengo questa iniziativa. Riccardo Tripepi per la CNews24